Contrabbandavano gasolio per autotrazione facendolo passare per olio lubrificante durante il trasporto su strada attraverso attestati fittizi per evadere le tasse. C'è anche una componente cilentana nella maxi operazione portata a termine all'alba di ieri dalla Guardia di Finanza di Salerno e che ha sgominato un sudalizio criminale che coinvolgeva persone e società con sede in Austria, Romania, Polonia, Slovacchia, Ungheria, Malte e Cipro, oltre che in Italia. Un affare per cui sono stati effettuati i sequestri per oltre 4 milioni di euro e per cui sono state emesse 31 misure cautelari. In carcere per il rumeno Marius Pop, per Salvatore Attanasio, residente a Trentinara, ritenuti le principali pedine dell'organizzazione e ai domiciliari per 14 persone, 10 delle quali salernitane, mentre altre 5, di cui 4 del salernitano, sono state raggiunte dall'obbligo di dimora. Ed è così che spulciando tra le carte dell'ordinanza si viene a scoprire che a sud di Salerno c'era tutta una rete di depositi, distributori e acquirenti. Utilizzato come deposito, ad esempio, è stato il capannone della Di Cunzolo Marmi, società ebolitana, il cui titolare Antonio Di Cunzolo, residente a Campagna, segnalato perché qui avrebbe fatto rientro un camion, dopo una consegna ai fratelli Ernesto e Enrico Montella di Olevano sul Tusciano, questi ultimi due finiti ai domiciliari. O ancora il capannone di proprietà di Vincenzo Trippa, di Capaccio, anche questo un deposito. Così come Antonio e Felice del Duca di Agropoli, ora con l'obbligo di dimora, figurerebbero tra gli assidui acquirenti, mentre avrebbero avuto un ruolo nell'ambito del trasporto del gasolio Carmine e Cosimo Iuorio, di Campagna, soci della stazione di servizio d'Ambrosio Carburante, e ora finiti ai domiciliari. Nelle tantissime intercettazioni, Alla base dell'operazione ci sarebbe finito anche Costanzo Salato, di Castellabate, che pare avesse il compito di trovare acquirenti, e che viene ascoltato mentre si mette d'accordo al telefono con Beniamino Mastrolia, di Campagna, per fornirgli del gasolio. Il suo dalizio criminale è stato seguito per oltre un anno dagli inquirenti, durante il quale sono stati fermati e sequestrati anche diversi mezzi, nelle fasi di trasporto e stoccaggio del carburante. Sul territorio nazionale, senza pagare le previste tasse, sono state immesse circa 4.000 tonnellate di gasolio, tali da influenzare i prezzi in concorrenza e attuare una distorsione del mercato a danno degli operatori onesti. Dopo i primi sequestri, l'organizzazione ha anche tentato di rifarsi delle perdite, organizzando il commercio di sigarette di contrabbando.